Esattamente un anno fa, il 18 gennaio dell'anno scorso, avevo fatto un video che si intitolava 1500 per ringraziare i 1500 iscritti del mio canale di allora. In un anno siete diventati più di 3600, insomma cosa molto gratificante per me. In quest'anno, grosso modo, l'attività del canale è anche cresciuta, grosso modo rispettando anche le linee che mi ero prefisso di portare avanti, linee che sono andate gradatamente spostandosi verso gli audiolibri, verso le letture e anche non soltanto letture mie. Ho messo audiolibri che ho trovato in rete e che ho cercato di rendere il più possibile ascoltabili attraverso il mezzo, cioè togliendo per quanto possibile le musiche, migliorando un pochino, sempre per quanto possibile, date le mie scarse risorse tecniche, la qualità audio. E di alcuni video, anche di letture mie, ho cercato anche quelli di ripostarli, migliorando per quanto possibile la qualità. Mi sono accorto che, insomma, è importante la questione della qualità. Le letture sono andate un po', insomma, sempre verso i classici. Diciamo che ultimamente sto anche, a proposito di classici, sto cercando di postare, se mi riesce, beh, intanto sicuramente l'integrale delle neide letta e commentata da Vittorio Sermonti, che sono riuscito a recuperare da quella trasmissione che ha fatto in radio circa 20 anni fa, da Mantua. Cosa che è molto bella, insomma, io mi ricordo di averla seguita in radio proprio all'epoca in cui è stata trasmessa. In molte cassette le avevo anche registrate, ma poi non ero riuscito a registrare proprio tutte. Però adesso è completa. Qualcuno mi ha chiesto se ce l'avevo in latino, no, purtroppo non abbiamo tutto, insomma, non ce l'ho letta in latino. Però Sermonti, insomma, se lo ascolta, negli incipit dei vari canti e delle neide, legge in latino e anche legge secondo la metrica latina. Quindi cose che è difficile al giorno d'oggi sentire fatte poi in maniera così magistrale. Poi sto cercando di leggere gradualmente, ho letto l'ottavo canto dell'Odissea di Omero e quindi cercherò di farne la lettura integrale. Poi cercherò anche di leggere, se possibile, l'integrale della Divina Commedia. Da questo punto di vista, cercando, per quello che mi è possibile sempre, e all'interno dei miei limiti, di caratterizzare questo tipo di lettura da un rispetto della musicalità dei versi, insomma. Più che seguire strettamente il senso, cercherò di seguire quella che è la musica interna dell'endecasillabo. E quindi, insomma, col risultato che ci sarà. Sicuramente ad alcuni non piacerà, ad altri, magari pochi, piacerà. Ma insomma, è il tentativo di caratterizzare questo tipo di lettura, visto che della Divina Commedia di lettura ne trovate tante, non so quante di integrali, e poi non so se tutte di qualità, insomma. Insomma, ci sta. Secondo me, anche un altro tentativo di leggere la Divina Commedia. Non la finirò prestissimo, perché così, insomma, leggerò un canto alla volta, man mano, insomma. Ma intanto, anche questo è un progetto. E sta andando avanti. Quindi tre cose integrali di tre classici, diciamo, la summa della classicità. Sono abbastanza, insomma. Quindi mi congratulo anche con me stesso, perché, insomma, c'è un'ampia gamma di possibili letture, non tutte magari molto conosciute, ma secondo me anche tutte interessanti. Tra questi libri interi ci sono anche dei racconti lunghi. Non tutti quelli che sono stati fatti, però, insomma, trovate anche dei racconti lunghi, non soltanto dei romanzi interi, ecco. Manca, secondo me, perché poi non è nelle mie corde il fatto di leggere libri moderni, cioè libri appena usciti, insomma, libri freschi di editoria. C'è lo stimolo a proseguire, ma ci sarebbe anche lo stimolo, a questo punto, ad allargare le cose sempre più, insomma, no? Prendere atto di questa crescita, insomma, e capire se si può andare avanti. Però non posso andare avanti da solo, semplicemente. C'è bisogno di qualcuno che collabori, soprattutto per quello che riguarda anche la lettura dei libri che escono di volta in volta, insomma, di quelli più moderni, più attuali, che non sono ancora diventati dei classici, ma che, insomma, vale la pena conoscere. E allora mi veniva in mente di cercare di organizzare un gruppo che legga e che posti queste letture, insomma. Un po' come ha fatto anche LiberLiber, però forse YouTube dà un'opportunità un po' diversa, perché comunque produce del materiale che è usabile per tutti, no? Anche per i non vedenti, insomma, anche chi ha problemi, per chi magari non riesce a stare sul libro, perché deve fare altri lavori, altre attività, ma che facendo queste altre attività può anche avere la voglia e il tempo di ascoltare. Poi ovviamente è bello sentire altre voci, altre voci che possono non essere sempre delle voci di attori impostate, insomma, delle voci di professionisti, no? È bello sentire anche voci spontanee che leggono. E da questo punto di vista, allora, ci sarebbe bisogno, secondo me, di allargare la platea dei lettori. Come fare? Creando un gruppo, insomma, no? Trovando il modo di darsi delle direttive, quindi di omogeneizzare la modalità di registrazione, insomma, un po' il criterio di lettura, la modalità, la qualità audio, insomma, che si riesce a dare al libro, e soprattutto facendo collettivamente un piccolo progetto, insomma, sentendo un po' cosa ognuno, insomma, in qualche modo vorrebbe leggere, vedere che non sia stato letto da altri o che uno si trovi già in giro, insomma, no? Quindi cercando delle letture nuove, in modo da allargare la quantità di titoli che si possono mettere a disposizione. Per fare questo bisogna un attimo coordinarsi, insomma, quindi chi ha voglia, se vuole, potrebbe contattarmi qui dal mio canale, c'è la mia mail, oppure anche da Facebook, insomma, potrebbe mandarmi un messaggio su Facebook e dirmi la sua disponibilità. Però deve essere una disponibilità pratica, insomma, nel momento in cui decide che gli piacerebbe fare queste cose, e questa cosa è leggere, prendere un libro intero che gli piace, lo discutiamo insieme, vediamo se non c'è già, se non è già stato letto, e poi prendersi la briga di leggerselo e una volta che l'ha letto, mandarmelo. Ovviamente se ha un canale di YouTube o se ha già un luogo dove postare questo libro, lo può fare. Se no, una volta che l'ha fatto, e me lo dà corretto, già a posto, insomma, e poi ci metteremo d'accordo sui criteri della registrazione, sulle modalità, su quello che serve di attrezzatura tecnica, poi me lo manda e io lo posto sul mio canale. Una volta che l'ho postato sul mio canale, il link potrebbe andare, per esempio, su una pagina Facebook. Io ho creato una pagina Facebook che si intitola L'Ascolta Libri, sulla quale è possibile postare libri, link, insomma, libri linkati da un canale Facebook dove vengono postati. Quindi è possibile renderli accessibili anche attraverso questa pagina. Oppure, mettendo insieme, confrontandoci un attimo, si potrebbe trovare un altro strumento, sempre su Facebook oppure su YouTube, magari creando un canale, un altro canale dedicato, in cui mettere tutto il materiale, insomma, a disposizione. Cercando di, appunto, di fare una lista di volta in volta di tutto il materiale che sia facilmente leggibile, in modo che uno che si avvicina sappia rapidamente quanti titoli e cosa può avere a disposizione da leggere e anche da scaricarsi, insomma, gratuitamente. Quindi una cosa del tutto libera. Sì, è un lavoro impegnativo, insomma, leggere un libro intero richiede un certo lavoro. Un certo lavoro di lettura, un certo tempo, insomma, di lettura, e poi anche un certo tempo, perché non sempre la lettura viene bene al primo colpo, insomma, no? Quindi un certo tempo di o rilettura o correzione, insomma, diciamo che il tempo di lettura può essere una parte, un quarto del tempo che poi ci vuole per confezionare un intero prodotto, insomma, che a volte dura tre, quattro, cinque, sei, dieci ore, e anche di più per qualche libro una volta confezionato, e quindi, insomma, ci vuole un certo tempo per poi metterlo insieme bene e renderlo ascoltabile, insomma, e piacevole all'ascolto. Però la gratificazione può essere, non è sicuramente di tipo economico, insomma, no? Ma è il fatto che quella lettura può essere usata, può essere utile, può servire ad altre persone, anche a persone che non sono in grado di leggere da soli, insomma, o persone che amano invece sentire leggere, avere una voce amica, chiamiamola, una voce che loro gradiscono, che gli faccia compagnia e che legga al posto loro. Quindi è una gratificazione, è una gratificazione non economica, ma può essere una soddisfazione morale, insomma, poi è una cosa che resta, insomma, e mi ricordo, mi viene sempre in mente, insomma, no? Questi autori di Fahrenheit 451, no? Che imparavano questo libro a memoria ed erano questi testimoni viventi, prestare la propria voce a un libro è sempre una cosa simpatica. Ogni interpretazione, poi, insomma, è una modalità, è una cosa diversa, insomma, no? È sempre un carattere nostro che viene fuori nel modo in cui si legge, insomma, no? E quindi ci mostriamo anche come persone, come individui, insomma, facciamo emergere la nostra sensibilità. chi ha voglia di leggere mi potrebbe contattare se riusciamo a creare un gruppo che si ampia sempre di più. Mi vengono in mente, per esempio, i gruppi di lettura che sono numerosi e organizzati, ecco. All'interno di questi gruppi di lettura potrebbe essere interessante organizzare anche un'attività di lettura ad alta voce, di registrazione, insomma, no? E quindi poi postarsi, insomma, all'interno del gruppo quello, il materiale che ne emerge. Io sono qua, se qualcuno ha voglia, potremmo essere anche numerosi, dovremmo essere numerosi, però è una cosa bella, secondo me. Insomma, io ci ho trovato gusto, quindi, insomma, penso che anche altri potrebbero trovarci gusto in questa cosa qua. richiede tempo, ecco, questo sì, richiede tempo e una certa anche tranquillità, perché, insomma, per leggere un libro intero bisogna essere anche non troppo distratti, insomma, avere una certa continuità, una certa concentrazione, però, insomma, se si fa, è bello. Come dire, io potrei dare, diciamo, tra virgolette, le direttive, insomma, direi l'attrezzatura minima che serve, la qualità minima che potremmo cercare di avere, insomma, e mozzare che ognuno per conto suo si confezione questo prodotto, poi quando l'ha mandato me lo spedisce per mail in qualche modo e io lo posto. Intanto lo posto sul mio canale, poi lo linkiamo su questa pagina che si intitola L'Ascolta Libro, questa pagina di Facebook che potrebbe essere in qualche modo portata avanti e alla quale delego volentieri la gestione a chi ha voglia, insomma, quindi la gestione di questa pagina potrebbe essere fatta da più persone e poi magari si discutono i criteri, si discute come promuoverla, se vogliamo promuoverla. Oppure si possono creare, secondo delle idee di ciascuno degli spazi dove postare questi titoli insomma e renderli il più possibile accessibili. Ripeto, non per avere un ritorno di tipo materiale, ma perché, secondo me, potremmo fare un'attività utile e anche piacevole, è anche uno strumento, insomma, per essere anche ricordati, magari, non so, insomma, la nostra voce sarà collegata, connessa, insomma, avrà a che fare con quel libro che magari qualcuno ascolterà. Ecco, l'interesse che mi pare che ci sia all'ascolto è un qualcosa che sempre più viene un po' usata, perché magari la gente ha altro da fare, oppure sta in macchina, e può ascoltare senza, anche quando non ha il tempo o la possibilità materiale di mettersi a leggere un libro. Ecco, sui generi lasciamo libera scelta, insomma, è bello che i generi poi siano diversi, perché anche io i miei generi difficilmente mi metterò a leggere cose che non mi convincono, che non mi piacciono, ma che hanno comunque diritto di esistere. Lancio ancora la proposta, adesso il canale ha una certa visibilità, in qualche modo si sta organizzando in questo senso. Se guardate su questa playlist di libri interi nel mio canale troverete la quantità di titoli che sono stati pubblicati nell'ultimo anno e attualmente sono solo a fare queste cose, insomma, quindi ho tutto il lavoro che ho fatto individualmente. Ovviamente se riesco a trovare dei collaboratori, insomma, se qualcuno vuole farlo insieme a me, intanto il lavoro diventa più leggero se si fa in più persone e poi si hanno anche più idee e soprattutto si riesce a trovare una quantità di materiale maggiore e anche molto più diversificata, insomma, e quindi si spera che diventi sempre più interessante, insomma, e quindi che sia anche sempre più conosciuta. colgo l'occasione per ringraziare ancora coloro che mi seguono con una certa costanza, con una certa attenzione e un saluto, arrivederci.